Da quando Stefano Vecchi è arrivato al Vicenza, il percorso dei bianco-russi è letteralmente svoltato. Un recupero in classifica che è valso il terzo posto in regular season e 21 risultati utili consecutivi comprese le gare play-off con Taranto, Padova e l'andata del partenio Lombardi contro Lavellino. Tutto questo grazie alla determinazione e all'evoluzione psicologica di un gruppo che era stato costruito per vincere il campionato, ma che la storia della stagione ha costruito a lottare per la promozione tramite la lotteria dei play-off. La partita d'andata da Lavellino ha messo in evidenza la fatica fisica accumulata nella posto season al cospetto della freschezza e forza dei lupi, che possono far valere la maggior freschezza grazie a due gare in meno sulle gambe. Domenica sera il Vicenza vorrà sfruttare il fattore Menti per strappare il pass per la finale. Il tecnico avrà tutti a disposizione fatta, eccezione per Trokin. In ottica formazione si va verso la conferma del 3-5-2 o 3-4-1-2, visto nell'ultima uscita contro il bianco-verdi. Le due novità potrebbero essere l'interimento di Fosso Rossi a centrocampo, che rientrato a disposizione dopo aver messo benzina nelle gambe nel match d'andata. In avanti avanza anche la possibilità di vedere, al fianco del logo Franco Ferrari, Jacopo Pellegrini. Il tecnico ha sottolineato nel post-gara di Avelino che servirà un Vicenza differente per poter puntare all'ultimo scoglio della post-season.